Vittoria netta per la squadra di Ferrero con il suo tridente che sembra aver raccolto le critiche della scorsa settimana. Tutti i suoi effettivi sono andati in marcatura. Andiamo con la cronaca. Al sesto il gol dell'Accademia a Burgomanero. Graal lancio con il contagiri di Leto Colombo, errore di valutazione di De Giorgi che non riesce a intervenire, ne approfitta Secci che stoppa di petto, entra in aria dalla destra e fa partire un diagonale perfetto che si insacca nell'angolo lontano. Al settimo ancora pericolosa l'Accademia, ancora con Secci che è irresistibile, sulla destra palla deliziosa per poi sul pallo lontano, l'attaccante calcia debolmente e a lato. Il raddoppio arriva al sedicesimo, su azione d'angolo stacco imperioso del Cobra Beretta che anticipa il suo marcatore e insacca. Al ventisettesimo si fa vedere la Rona, bellissima cavalcata in ingue che attraversa tutto il campo per vie centrali. Al limite serve Usè sulla sinistra, sua conclusione però è alta. La partita si riapre al trentanovesimo. Ningue, il migliore fra i suoi, entra in aria di rigore dalla destra. Ottina lo atterra, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penati. Sul dischetto va Briola che spiazza Tornatora. L'Accademia sembra soffrire il ritorno della Rona e al quarantaseiesimo sfiora il pareggio. La squadra ospite, su azione d'angolo, stacco di Briola che di testa va a colpo sicuro. Incredibile riflesso di Tornatola che in tuffo salva i suoi. Nella ripresa ci si aspetta una gara tirata ma è all'ottavo l'episodio che cambia il volto della partita. Brutto intervento di De Giorgi su Salici. De Giorgi già munito tra l'altro ma per l'arbitro l'intervento è da rosso diretto e Arone in dieci. Ne approfitta subito l'Accademia al quattordicesimo, va in gol. Poi raccoglie palla al limite, gran tiro, Beltrami sorpreso e palla che si insacca. Giusto il tempo di festeggiare arriva il quarto gol. Gran tiro di Beretta dalla lunga distanza e Beltrami ancora battuto. Al ventunesimo il gol del definitivo 5-1. Bellissima giocata di poi che dal limite dell'area trova un pallonetto delizioso alla Totti a San Siro. Beltrami tocca ma non respinge e palla che si insacca. Una vittoria importante per l'Accademia che mercoledì ospiterà il Verbania in Coppa.